Sono Marta Cavecchioni, sono stata invitata a fare un'esposizione in questo spazio virtuale che ha aperto Lunadigas, quindi ho strutturato questa mostra che poi vedrete esposta nello spazio virtuale. Allora, cosa dire di me e del mio lavoro e cosa rispetto a Lunadigas? Allora, io mi definisco un'attivista, sono un'attivista che attraversa gli spazi in realtà appunto, senza fermarsi quasi mai, sono arrivata in bicicletta, forse è quello, è il movimento quello che mi contraddistingue come attivista. Un po' di anni fa, diciamo, ho scelto a un certo punto qual era la mia strada come donna, insomma, di non avere figli. In realtà è stata una scelta che appartiene anche abbastanza al mio passato. Io già da bambina non capivo troppo questo senso di avere dei figli geneticamente propri e lì entriamo anche forse nel concetto sociale che mi appartiene e su cui strutturo anche la mia arte, che poi non è neanche mia, appunto, è qualcosa di diverso, è un atto d'amore, secondo me di affetto verso le altre persone, quindi ha molto a che vedere in realtà con la metafora della maternità, ma come affetto dato a qualcosa e qualcuno senza niente in cambio. Comunque socialmente secondo me non abbiamo delle strutture affettive ora qui, in questo contesto, che almeno mi comprendano. L'idea mia di crescita di una persona, perché anche questa cosa io non so, non riesco neanche a dividere le persone per fasce d'età e anche le persone giovani secondo me sono persone che hanno una loro soggettività che dovrebbero essere socializzate all'interno di un contesto più ampio. Nel tempo sto formando un concetto di tribù un po' diversa, insomma, che non sia legata a una genetica e questo si lega molto alla scelta di non avere figli. Non ho bisogno io di avere un figlio che abbia la mia genetica, non ho bisogno di riprodurre quello. Quello di cui ho bisogno probabilmente che mi sento è di costruire delle comunità, è quello il mio modo di essere nel mondo, insomma, di tentare di lasciare quel tipo di solco se vogliamo, insomma. Ma non per me, non mi interessa, io forse non lo vivrò, però per non far vivere tutta quel dolore. Io ho provato tantissimo dolore nel dover ripensare gli affetti perché non è facile, cioè la qualità e la quantità di affetti che abbiamo intorno non è facile per niente. Slegati dal concetto di famiglia che è una struttura sociale creata per ordinare una società non è una cosa innata in noi, cioè i ruoli affettivi sono una roba che ti entra dentro perché ci nasci, ti viene imposta in qualche modo, è l'unica via, cioè ti fidi perché tu ti fidi delle altre persone perché pensi che ti stiano dando il meglio di sé e quindi crei comunque tutta una serie d'immaginario che quando ti ci scontri perché non lo senti questo affetto, secondo me lì c'è tanto dolore da affrontare e tanta ricerca di altro nel mondo e l'arte a me è servita a questa è stata la mia salvezza. Io ho iniziato a immaginare altro rispetto a quello che vivevo e secondo me è la propensione che vorrei, cioè che tutte le persone dovrebbero poter avere, cioè la possibilità di immaginare qualcosa di diverso anche rispetto a quello che vivono nel proprio ambito dove nascono, insomma non è detto che si nasce fortunati con degli affetti intorno, un contesto che ti dia criticamente la capacità di di capire quello che c'è, che senti e secondo me questo è un lavoro che per esempio adesso politicamente, io sono anche molto politica, credo che dobbiamo cambiare anche politicamente gli approcci per agire delle strutture che ci comprendano, che comprendano tutte le persone che mettono in dubbio queste queste dinamiche e poi non so mai se sono chiara perché proprio alcune cose non le capisco io di come avvengono e da lì mi sono posta un sacco di domande insomma e quello mi ha aiutato, dico perché soffro all'interno di queste strutture, di questo modo di fare, quello mi ha aiutato tantissimo e quello muove anche tutta la mia ricerca ma non solo la mia ricerca, diciamo che io non sono soltanto una donna senza figli, sono una donna che sceglie di andare in bicicletta perché è il mezzo che sente più vicino in una società, in una città ostile come Roma e quindi sono scelte che poi in qualche modo paghiamo, insomma Lunaticus ci dà una finestra diciamo rispetto al personale che viene intaccato quando fai una scelta che non è consona rispetto alle norme sociali, c'è sempre qualcosa che ti aggredisce perché non puoi metterle, non devi metterle in discussione, non è tanto che aggredisce te ma quanto quello che rappresenti e sempre lì è il motivo per cui per me le immagini sono molto potenti, quello che rappresenti, quando ti scontri, anche solo con il tuo corpo rappresenti una differenza che a volte fa scatenare una violenza essendo donne, appunto quella cosa dell'utero, di voler, del dover procheare, di dover agire in un determinato modo, di non poter essere arrabbiate quando siamo arrabbiate, cioè tutta questa è molto più complesso, nel senso non è solo una scelta, secondo me è una complessità che ti apre una prospettiva differente che è esattamente quello che si fa con l'arte, quindi questa creatività noi ce l'abbiamo, ma noi non solo donne, anche persone che non hanno l'utero o persone che non lo vogliono usare o persone che non possono usarlo per procreare questa cosa, secondo me è fondamentale che la sentiamo. Ho tante sorelle direi, ma anche sconosciute, nel senso che ogni volta che leggo un testo, ogni volta che vedo un percorso, seguo un percorso anche di persone che non sono strettamente vicine al mio ambito, al mio territorio, che incontrerò mai dal vivo, anche perché io sono timida e non riesco neanche a presentarmi in queste situazioni, sono un'artista timida che poi fa delle cose assurde, invece all'improvviso, come tutte le persone timide credo. e quindi ci sono delle sorelle, ci sono tante persone da cui apprendo, cioè prendo spunti, prendo percorsi, c'è Marcella Corsi che è un'economista, che è la prima donna entrata nel board dell'economista internazionale, che mi illumina su una parte che per me è sconosciuta, appunto la parte economica, ma anche i percorsi, quelli di lotta che io non ho vissuto, quindi sull'autocoscienza, come si faceva, mi racconta tanto, lei in qualche modo è una sorella forte, nel senso, poi ci sono appunto, che ne so, c'è la mia sorella argentina, che è Romina Tassinari, che è un'altra artista, Lunadigas, che ci siamo incontrate parlando del tema delle streghe, e quindi capire perché ci venivano bruciate, perché ci piace riprendere il fuoco, e se ci piace a noi come artiste riprendere il fuoco che ci ha bruciato e quanti passi dobbiamo fare ancora per riprendercelo senza negare invece chi l'ha utilizzato sui nostri corpi, su cui facciamo un sacco di riflessioni su queste parti. Sto parlando di persone ancora vive persone con cui ho delle relazioni, appunto poi ci sono Belux che ho incontrato attraverso i percorsi di attivismo, ci sono tante scrittrici, anche scrittori che ho incontrato, quindi non so, ci sono tanti link diciamo affettuosi secondo me, che ogni volta che scopro qualcosa per me è portato da un'altra persona, per me quello è un atto d'affetto, io lo concepisco così. Cosa lasceremo e a chi e in che modo possiamo lasciare quello che abbiamo fatto o abbiamo di più caro, tipo Bruno? A chi lo lascerò se mi succede qualcosa? In che forma, in che modo costruire questa cosa quando non hai appunto delle persone direttamente, insomma che la struttura sociale ha detto a cui affiderai queste cose, ma a volte anche affettivamente insomma, ti fa piacere che un figlio o una figlia abbia delle cose a cui tieni. Questa è una bella domanda, io mi sono, cioè sicuramente dobbiamo costruire appunto, ritorniamo a quella cosa delle piccole tribù, io mi credo che, io vorrei che tutte le cose che ho prodotto possano creare una possibilità alle altre persone, quindi non lo so, più che tenerle, nonostante tutto io direi vendete tutte le mie opere e speriamo che le comprino a tantissimo per dare la possibilità a un'altra persona di fare un percorso di attivismo che sostenga le altre, le altre donne, le altre persone marginalizzate, che ponga altre domande ancora più profondamente, ancora più in là, spingendosi ancora più avanti per tentare di arrivare al profondo di noi, di potersi esprimere per quello che siamo, cioè una roba che teoricamente dovrebbe essere semplicissima, invece è complessissima, lo sarebbe comunque anche fuori da tutta una serie di strutture, perché comunque, però diciamo che noi su questo proprio ancora abbiamo degli strati talmente forti che non ci dobbiamo lavorare tantissimo, e quindi quello, e lasciare, io vorrei lasciare possibilità, e non so a chi, cioè forse non mi serve sapere a chi direttamente, però vorrei lasciare delle possibilità. non faccio arte per me, anzi, io ogni volta che mi pongo a fare arte ho bisogno di un momento in cui mi ripulisco, diciamo, delle mie tensioni, ma proprio non le voglio mettere lì, cioè quelle sono le mie, voglio tenere invece tutte quante le intuizioni che ho, anche vivendo nelle tensioni, e quella roba lì è una cosa che posso condividere, perché sono prospettive e possiamo unirci, e posso, è un po' come scopro una cosa che io non conoscevo e nessuno, nessuna persona me l'aveva data, e vorrei che per quel poco che posso fare io con il mio lavoro, darla anche alle altre persone, già, no? C'è questa possibilità. Per esempio, rispetto a quello che dicevo prima su le persone giovani, quindi i bambini, noi non abbiamo ancora mai veramente considerato quanto quello che noi chiamiamo educazione sia a volte una violenza e un'imposizione, questo lo scriveva anche Belux, cioè non stiamo, adesso è un momento in cui stiamo chiedendo un'educazione sentimentale, ma chi la stiamo chiedendo? Una struttura, comunque a una scuola che a parte non ha più fondi, e quindi quelle persone che ci lavorano, hanno una difficoltà a portare avanti i progetti fuori, diciamo dall'orario scolastico, dal loro ruolo di cattedra, però è proprio una struttura che non comprende che dobbiamo ascoltare in realtà più che educare. Cioè, io per esempio, non essendo una donna con bambini, ma io le persone giovani le adoro, perché hanno ancora quella capacità di giocare che a me serve. Io quando posso gioco in qualsiasi situazione, quando posso, oltre a avere questo approccio politico anche molto serio, anche molto positivo, però appena posso sento l'esigenza di dover giocare. Io vorrei andare al parco giochi a giocare con gli altri bambini, anche senza che siano i miei, e senza essere guardata male, perché sono... Ho fatto la babysitter per un periodo della mia vita, quello è stato un canale in cui potevo inserirmi, perché socialmente potevo andare a giocare con i bambini, che li stavo guardando, in realtà stavo giocando con loro. Alcuni bambini ai cui ho fatto la babysitter da giovane mi hanno insegnato tantissime cose, ma tantissime, perché appunto noi dobbiamo ascoltarli, c'è tutta un'emozione, l'emotività in realtà c'è, c'è noi nasciamo con questa capacità di creare relazioni, affetto, tutta quella parte lì c'è, noi la dobbiamo ascoltare, e dobbiamo magari piano piano dare una mano, semmai con le parole e aumentarle, domandarci anche noi, prima di tutto, cosa significano. Rispetto al mio lavoro, io a un certo punto ho avuto la possibilità di poter fare una scelta, è stato dopo i 35 anni, tra i 35 e i 38 anni, che ho avuto la possibilità di scegliere di provare a fare arte, perché prima non avevo le possibilità, quindi a un certo punto ho fatto un lavoro, questo lavoro mi ha consentito di dire, ok ce la posso fare, questo è il momento giusto, posso staccare su questa cosa e provare a fare questo tipo di lavoro, che poi appunto in realtà chiaramente è una passione che mi accompagna da sempre, però farlo a livello lavorativo, cioè tutto il giorno anche semplicemente, vuol dire innescare dei processi di ricerca completamente diversi rispetto a farlo ogni tanto. E quello che sto vedendo io tanto per una persona come me, che non si adatta a situazioni, che dice tanti no, come nella vita ai figli diciamo, che dice tanti no. È difficilissimo perché essere riconosciute esternamente vuol dire avere spesso fama, cioè nel senso anche questa cosa di, a me non interessa per esempio, a me non interessa la fama, a me interesserebbe fare un lavoro sociale, territoriale, secondo me non servono grandi persone, è sempre quella cosa essere leader, no? Non servono grandi persone che ci dicano come pensare, serve che insieme lo facciamo questo percorso, perché sennò ci saranno sempre persone indietro e qualcuno che ti illumina la via, o che ti aspetti che ti... è sempre questa cosa anche di dare il mandato, no? Come con la scuola, con l'educazione, invece piano piano dobbiamo riappropriarci, secondo me, di una serie di cose. Io a livello lavorativo faccio tantissima fatica, perché rivolgendomi alle persone comuni e non a grandi, a persone con redditi enormi, eccetera, eccetera, il mio lavoro, no? Segue, io farei arredditometro, no? Quella cosa, tu quanto ti... che è difficilissima questa cosa, perché ci sono tante persone che in realtà non sono povere, ma si percepiscono come tali. E ci sono tante persone invece che stanno lì, lì, stanno per andare, però che vorrebbero ancora poter pensare che un'immagine dentro casa, no? Gli dia una prospettiva appunto differente e godersela. Quindi c'è tutta questa situazione. C'è una situazione delle strutture amministrative dello Stato che fanno bandi culturali, in cui adesso chiedono anche le fiduissioni bancarie, perché pensano che chi fa arte e cultura presenta tutto un progetto strutturato, poi, no? Se ne va... e che non danno lo spazio per la cura. Se all'interno di un bando, vinci un bando, io l'ho vissuto, vinci un bando e c'è una persona che sta male e che doveva far parte di quel progetto, non hai il tempo per aspettare che quella persona stia meglio, per esempio. O c'è tanta richiesta di cultura gratuita. E come credo che anche le persone che fanno attivismo dovrebbero avere un reddito, dovremmo creare una struttura economica differente. Penso anche che per la cultura, perché sennò emergerà solo la cultura di chi se lo può permettere di emergere, di lavorare. E i margini noi non li ascolteremo mai. E a me ha fatto benissimo sentire e ascoltare le persone che stanno ancora più al margine di me, perché mi hanno dato la possibilità di affrontare altri strati che io non avevo considerato. E secondo me questa è una perdita per tutte le persone. Siamo qui a Luce e Siesta, nel cortile. Qua alle mie spalle ci sono le edicole laiche che abbiamo realizzato durante un corso fatto a Bande Femme, che è un festival di illustrazione femminista di tuba alla libreria delle donne. Quindi sono opere di tante persone differenti che hanno partecipato a questo corso. Perché siamo qui? Perché questo è un luogo che è sotto attacco. È la casa delle donne, ma non solo. È la casa di un territorio dove si dà accoglienza alle persone che stanno facendo un percorso di fuoriuscita da situazioni di violenza, ma dove si fanno attività, cultura, sia per il territorio che per persone che vengono da fuori. E quindi è uno spazio di tutte e tutti. È uno spazio che è sempre stato attraversabile, aperto e che noi adesso vediamo appunto messo in discussione. Dovrebbero le persone che fino adesso hanno tenuto gratuitamente e in modo assolutamente affettuoso questo spazio dovrebbero riconsegnarlo per metterlo a bando. Tornando ai bandi, alla situazione dei bandi che ci sono, stiamo perdendo con questi bandi una serie di percorsi avviati e profondi che non possiamo permetterci. Specie adesso, in una situazione in cui stiamo vedendo, la violenza sta aumentando perché mettiamo in discussione la struttura del patriarcato, quindi ci sono una serie di reazioni ancora più forti rispetto a appunto prendere parola. Specie adesso, non possiamo permettercelo. E questo spazio è uno spazio aperto. E questo spazio è uno spazio aperto.